Sì, mi volevo scusare in primis perché è da un mese che non escono video su YouTube Non escono video su YouTube non è colpa mia, ma ho, cioè, sono stato in vacanza, tra cui, 15 giorni in vacanza sono stato E oltre ai 15 giorni in vacanza sono, diciamo così, avevo anche gli esami di terza media E ho avuto gli orali gli ultimi giorni di, diciamo così, gli ultimi giorni di giugno Dovevano finire il 29 e io sono passato il 26 e il 27, adesso non mi ricordo più Sono stato impegnato questi, diciamo così, questo mesetto Mi dispiace per non aver caricato video su YouTube E volevo dire che da domani, sempre alle 14, uscirà, usciranno, cioè, uscirà sempre un video al giorno su YouTube Come è sempre successo Bombe ragazzi, detto questo, io vi volevo augurare una buona serata Grazie